Ciao ragazzi, in questo video proseguiamo il discorso sul calcolo letterale che abbiamo cominciato nei video precedenti della playlist parlando finalmente di polinomi e vedremo in particolare che cosa sono e quali operazioni possiamo fare con loro. Cominciamo innanzitutto con chiarire che cosa si intende per polinomio. Un polinomio è sostanzialmente una somma algebrica di monomi, ovvero un'espressione in cui compaiono delle costanti e delle variabili che sono combinate utilizzando solamente le operazioni di somma, sottrazione o moltiplicazione e in cui gli esponenti delle variabili possono essere naturalmente solo interi positivi, avendo a che fare con dei monomi. Volendo fare un paio di esempi, 3x più mezzo y è un polinomio e lo è anche x quadrato meno 5x più 6. Infatti vedete che in entrambi i casi abbiamo delle variabili e anche delle costanti che sono combinate tra loro tramite operazioni di somma, sottrazione e moltiplicazione. Mentre non sono polinomi ad esempio 2x quadrato meno 7 il tutto fratto 3x per via di questa divisione e 2x meno radice di y per via della radice che ricordo possiamo pensare come un elevamento ad esponente razionale, quindi una frazione. E dunque visto che l'esponente non è intero non possiamo parlare di polinomio. In principio all'interno del polinomio potrebbero anche comparire dei monomi simili come vedete in questo esempio qui, nel qual caso quello che si fa di solito è sommarli tra loro e quello che si ottiene è il cosiddetto polinomio in forma normale. Dunque diremo che il polinomio è ridotto in forma normale se al suo interno non compaiono monomi simili. Così come abbiamo già visto per i monomi, anche per i polinomi si introduce il concetto di grado ed il grado di un polinomio è definito come il maggiore tra i gradi dei monomi che lo compongono, che sono anche chiamati termini del polinomio. Per fissare meglio le idee qui sotto vi ho riportato alcuni esempi e vedete che nel primo caso abbiamo un polinomio di terzo grado perché tra i due termini quello di grado maggiore è il primo e il suo grado complessivo ovvero la somma degli esponenti delle lettere è proprio 3, nel secondo caso abbiamo invece un polinomio di quinto grado visto che naturalmente il termine di grado più grande è l'x alla quinta qui davanti, poi abbiamo invece un polinomio di quarto grado e infine qui in fondo abbiamo un polinomio di terzo grado. Notate in particolare che nel caso di quest'ultimo polinomio tutti e quattro i monomi che lo compongono hanno lo stesso grado, precisamente sono di terzo grado nel nostro esempio e quando succede questo, ovvero quando tutti i termini del polinomio hanno lo stesso grado, si dice che il polinomio è omogeneo. Quando invece nel polinomio troviamo tutte le potenze rispetto ad una certa lettera, come nell'esempio che vedete qui in cui vedete a partire da x alla quarta abbiamo poi x alla terza, x alla seconda, x di primo grado e poi il termine noto che potremmo pensare come un termine in x elevato alla zero, si dice che il polinomio è completo rispetto a quella lettera lì. Mentre diremo che il polinomio non è completo rispetto alla lettera se mancano alcune delle potenze con esponente minore rispetto a quello del termine di grado più grande. Per esempio in questo polinomio, in cui vedete il termine di grado massimo è x alla quinta, non abbiamo anche x alla quarta, x alla terza e x alla seconda, ma saltiamo da x alla quinta a x di primo grado. Dunque diremo che il polinomio non è completo rispetto alla lettera x. Appurato questo, vediamo quali sono le principali operazioni che possiamo fare con i polinomi? E cominciamo da quella più semplice, ovvero la somma. La somma di due o più polinomi è semplicemente il polinomio che ha per termini tutti i termini dei polinomi che stiamo sommando. E per fissare meglio le idee diamo subito un'occhiata ad un esempio. Supponiamo che ci venga chiesto di sommare il polinomio 3x quadrato meno 7x più 2 con il polinomio x quadrato meno 6x meno 4. Che cosa dobbiamo fare? Beh fondamentalmente riscriverci tutti i termini dei due polinomi in fila uno dopo l'altro e a questo punto, visto che quello che abbiamo qui non è un polinomio ridotto in forma normale, procedere alla somma dei termini simili in modo da ottenere un polinomio in forma normale. Se lo facciamo, vedete abbiamo un 3x quadro più x quadro che dà come risultato 4x quadro, poi abbiamo un meno 7x e un meno 6x che danno un meno 13x e poi abbiamo un 2 meno 4 che fa meno 2. Dunque il risultato della nostra somma sarà il polinomio 4x quadro meno 13x meno 2. Similmente, per fare la differenza di due polinomi, si tratta stavolta di sommare al primo polinomio l'opposto del secondo, ovvero il polinomio che si ottiene cambiando di segno ciascuno dei monomi che lo compongono. Giusto per fare un esempio, se ci chiedessero di fare la differenza tra il polinomio 3x quadrato meno 7x più 2 e il polinomio x quadrato meno 6x meno 4, quello che dobbiamo fare è sommare al primo polinomio l'opposto del secondo polinomio. E quindi vedete che qui ci sono proprio i termini del secondo polinomio, cambiati però di segno per via di questo meno che c'era davanti alla parentesi. Non resta quindi che sommare i termini simili tra loro per ottenere risultato scritto in forma normale e nel nostro esempio è 2x quadro meno x più 6. Come vedete, il procedimento per eseguire le somme e le sottrazioni è sostanzialmente molto simile, proprio perché la sottrazione diventa l'addizione dell'opposto e quindi anche per i polinomi si può parlare di somme algebriche per riferirsi sinteticamente alle addizioni e alle sottrazioni. E' poi interessante notare che quando eseguiamo una somma algebrica tra polinomi il grado del polinomio risultante è minore o uguale del maggiore tra i gradi dei due polinomi. E questo è la prima volta che uno se lo sente dire un po' controintuitivo perché viene da pensare che quando io faccio una somma algebrica il grado del polinomio risultante sia proprio il maggiore tra i gradi dei due polinomi. E invece non è detto che le cose stiano così e per convincervi di questo vi ho riportato qui sotto un esempio in cui vedete abbiamo due polinomi di secondo grado sommati tra di loro. E nel momento in cui facciamo la somma quello che accade è che i termini di grado massimo, ovvero quelli di secondo grado, si semplificano tra loro e quindi il polinomio risultante, che è in questo caso meno 13x meno 7, è di primo grado anche se io sono partito da due polinomi di secondo grado. Dunque in generale l'unica cosa che si può dire sul grado del polinomio risultante è che è minore uguale del maggiore tra i gradi dei due polinomi. Appurato questo diamo adesso un'occhiata alle moltiplicazioni. Il prodotto di due polinomi è il polinomio che si ottiene moltiplicando ogni termine del primo polinomio per ciascun termine del secondo polinomio e sommando poi tutti i prodotti così ottenuti tra di loro. Se quindi ad esempio volessimo moltiplicare il binomio a più b per il binomio c più d, dove per binomio si intende un polinomio avente due termini, dovrei procedere così. Prendo il primo termine del primo polinomio, quindi a, e lo moltiplico prima per c e poi per d. Dopodiché prendo il secondo termine, ovvero b, e lo moltiplico prima per c e poi per d. E si ottengono quindi i quattro termini che vedete qui che vanno poi sommati tra di loro. Volendo, se immaginiamo che a, b, c e d siano delle quantità positive, possiamo interpretare geometricamente questo risultato. Infatti a più b che moltiplica c più d equivale all'area di un rettangolo avente per base a più b e per altezza c più d. E vedete che i quattro termini che ci sono comparsi sarebbero le aree dei quattro rettangolini colorati che sommate tra loro danno proprio l'area del rettangolo di partenza. Vediamo a questo punto un altro paio di esempi. Supponiamo che io debba moltiplicare x meno 2 per x più 3. Che cosa devo fare? Beh dovrò fare x per x che fa x alla seconda, poi ho un x per più 3 che fa più 3x, un meno 2 per x che fa meno 2x e un meno 2 per 3 che fa meno 6. E a questo punto se sommo tra di loro i termini simili, quindi il 3x e il meno 2x, ottengo come risultato x quadrato più x meno 6. Mentre invece se dovessi moltiplicare x meno 2 per x quadrato più 3x meno 4 dovrei fare x per x quadro che fa x cubo, poi x per 3x che fa 3x alla seconda, poi un x per meno 4 che fa meno 4x e poi una volta terminato di utilizzare il primo termine passo qui al secondo e quindi ho un meno 2 per x quadro che fa meno 2x quadro, un meno 2 per 3x che fa meno 6x e un meno 2 per meno 4 che fa più 8. E come prima, se sommiamo a questo punto i termini simili, abbiamo un x alla terza, poi c'è un 3x alla seconda con un meno 2x alla seconda che fa un più x alla seconda, un meno 4x che con un meno 6x dà come risultato meno 10x e infine abbiamo il più 8 che c'era qui. Una cosa interessante da notare è che per controllare se abbiamo fatto giusto possiamo naturalmente o risvolgere i calcoli che abbiamo fatto poco fa e quindi controllare passaggio per passaggio, oppure anche provare a sostituire uno stesso valore numerico al posto della x all'inizio e poi nel risultato che abbiamo ottenuto. Infatti trattandosi di uguaglianze che devono essere verificate per qualunque valore di x, se abbiamo fatto giusto dovremmo ottenere lo stesso numero. Se ad esempio proviamo a sostituire x uguale ad 1 nel nostro esempio, se lo mettiamo qui vedete che otteniamo un 1 meno 2 che moltiplica 1 più 3 meno 4, mentre se lo mettiamo qui al posto della x otteniamo un 1 più 1 meno 10 più 8 e se facciamo i calcoli ci viene 0 a sinistra e 0 anche a destra, quindi l'ugaglianza è verificata, il che ci dice sostanzialmente che probabilmente abbiamo fatto giusto. Se invece ci avessimo ottenuto due numeri diversi, questo ci avrebbe segnalato che c'è qualche problema di coerenza nei nostri passaggi precedenti e quindi è il caso di ricontrollare. Come vedremo più avanti questa tecnica funziona anche per espressioni molto più lunghe e in cui ci sono operazioni ben più complicate di una semplice moltiplicazione e consente di ricontrollare la correttezza del risultato risparmiando un sacco di tempo rispetto al dover rifare manualmente tutti i passaggi. Infine l'ultima cosa che volevo dirvi è che nel caso di un prodotto di due polinomi il grado del polinomio risultante è la somma dei gradi dei due polinomi che stiamo moltiplicando. Quindi qui, a differenza della somma algebrica che abbiamo visto prima, la previsione del grado del risultato è piuttosto semplice. Proseguiremo il discorso sulle operazioni con i polinomi nel prossimo video dove parleremo nel dettaglio dei prodotti notevoli. Io per il momento ragazzi ho terminato. Come sempre se trovate utili queste lezioni ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su Facebook ed Instagram e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video.